La 74esima edizione della Fiera dell'Epifania, appuntamento di punta all'Aquila che chiude le festività natalizie, ha portato in centro storico davvero tantissime persone e non ha deluso le aspettative. Sin dalle prime ore della mattinata tanta gente si è riversata nei vicoli del centro nel percorso delle bancarelle. Perché la Fiera dell'Epifania è una tradizione per gli aquilani, ma negli anni ha richiamato visitatori anche da fuori regione. Organizzata da FIVA Confcommercio di concerto con il Comune, ha visto 240 banchi schierati nel tradizionale tracciato, che però ha escluso quest'anno la piazza per i lavori di restyling e anche la parte di corso principale dove c'è il mercatino natalizio con le casette di legno. La Fiera non solo è un appuntamento rinunciabile, ma non ne posso proprio fare meno. Stavo raggiungendo mia moglie che già da questa mattina alle 8 e quindi in giro, le bancarelle sono veramente peridigente, colorate, c'è tanto mi auguro che tutti quanti alla fine rimangono contenti. È il grande evento dell'anno. Ha già dato uno sguardo? Comprerà qualcosa? Ho già comprato una camicia molto carina e ora continuerò senz'altro. È una tradizione ritornare a casa tipo Befana carica di pacchetti. Venditori storici con le immancabili novità per la casa, la piadina romagnola, la fiera è soprattutto tradizione per commercianti aquilani. C'era anche tanta gente arrivata da fuori regione a visitarla. Importante è anche l'apparato dei controlli per evitare abusivi e borseggiatori. Non è il primo anno che venite? No, no, veniamo da parecchi anni. Com'è? È bello? Bella. La fiera dell'Ebifania questa è bellissima. Buona fiera dell'Ebifania a tutti, tutti gli ospiti perché noi li trattiamo come ospiti. Poi questo cappello, parliamo del cappello. Il cappello è un cappello originale e poi è portafortuna. Tutti quanti mi chiedono, posso toccare la coda? Posso toccare la coda? Senta, lei da dove viene? Io Giulia Nova. È un abituale della fiera, viene ogni anno? Sono 40 anni che vengo alla fiera. Prima stavo, prima del terremoto, sotto i porti di San Bernardino, poi Piazza Duomo, poi la Fontana Luminosa. Quindi è sempre tradizionale, dopo tutte le sciagure che sono successe, è sempre una bella cosa rivederlo perché se ne parla, ma non solo qua in Abruzzo, ma in tutta Italia, rinomata la fiera dell'Ebifania. Signore, buongiorno, com'è la fiera? Bella, ci piace. È una tradizione venire? Sempre, sempre. Avete già comprato qualcosa? Possiamo curiosare? Libri? Tovaglie? Accessori per la cucina. Le donne sempre cose per la casa? C'è anche qualcosa di personale, sempre. Buona fiera? Grazie. Ha comprato? Sì, sì, lo scabbello perché non arrivo a vedere lo spioncino, e allora mi sono dovuto comprare questo. Per controllare meglio? Per controllare le fette dei chiatrici. Com'è la fiera, signora? Eh, insomma, bellissima, però a me piace tanto. Ci si viene per tradizione? Anche. Io adoro le bancarelle, quindi va bene così. Me ne vedo? Ahahahah. Ahahahah! Annette. Cos'è un palermo? Perché? Grazie a tutti.